Dunque Albi ti ho appena chiesto primi o secondi perché usciti dalla sera stampa ancora non lo sapevamo secondi per il momento, una ottima prima giornata per voi qui a Scarlino? Sì è andato tutto per il meglio, è stata anche una verifica un po' di come vanno le varie barche più o meno abbiamo visto che i valori in campo sono sempre gli stessi, con gli stessi avversari siamo molto contenti perché abbiamo visto che abbiamo una buonissima velocità il clima a bordo è bellissimo, l'equipaggio è abbastanza allenato per cui siamo soddisfatti siamo un po' così consapevoli che si poteva raccogliere un po' di più perché la fortuna oggi non è stata dalla nostra più occasioni però trovarsi secondi in classifica fa sempre piacere Ho appena chiesto a rientrante Flavio Favini, lui che è stato tanto tempo negli Stati Uniti ad allenarsi se aveva già individuato l'avversario e mi ha detto c'è un gruppo di barche piuttosto livellato Sì, anche la classifica è abbastanza corta, adesso non l'ho ancora vista bene ma penso che nelle prime 5-6 posizioni tutti quanti hanno più o meno gli stessi punti per cui il campionato è ancora lungo e penso che ci saranno tanti ribaltoni in questi giorni Per domani che metodo dobbiamo ottenerci? Il metodo per domani dava lo stesso di oggi che in realtà era più leggero perché abbiamo visto qui le previsioni locali per la Toscana davano un vento di 8-10 nodi invece in mare alla fine c'era qualcosa in più è arrivato anche a 12-13 nodi per cui speriamo sia una giornata come quella di oggi perché è stato un bel veleggiare Grazie a voi Grazie a voi